E salve a tutti amici cooperiani e benvenuti in questo primissimo video su Call of Duty World War 2 Per chi mi seguiva nella pagina Facebook l'avevo detto che l'avrei portato quando c'era la beta Insomma si l'avrei portato quando c'era la beta E questo è un commentary, non è un live commentary ma è un commentary normale La prima volta che c'è un commentary su questo canale Su COD, COD poi su questo canale E nulla Io sono un fan di COD da tanto tempo Ho giocato ovviamente gli altri COD E ero innamorato del Modern Warfare 1, Modern Warfare 2 e Black Ops Dopo di lì l'ultimo che ho comprato è stato... È stato coso, come si chiama? È stato l'Infinite Warfare solo perché c'era la remaster del 4 E poi è questo insomma Ma però per PC Qui siamo su PlayStation perché c'era un modo per poterci giocare anche senza averlo preordinato Io ho usufruito di quel modo Ovvero è quello di fare un account Come si chiama? Un account provenienza Hong Kong E avevate la beta gratis senza dover fare nessun preordine Io l'ho fatto e niente, ci ho giocato È per me un po' difficile giocare alla Play Ora in questa partita ho giocato benino, non benissimo Però è difficile essendo che non gioco mai alla Play È tanto che non ci gioco, sono sempre su computer Quindi credo che poi su computer sia tutto molto, molto diverso Poi c'era questo che con il pompa quando si uccideva dava fuoco È ok Va bene E allora Allora Credo che questo video sia uscito Prima di quello Della seconda parte di Next Day Visto che se no erano tre volte che lo portavo di fila Allora ho deciso di portare prima questo Ed è un caso Che vi sto portando questo da Play Perché È la prima volta che uso Proprio il capture della Play Senza un game capture Qualcosa del genere Proprio il salvare la clip della Play direttamente E quindi boh non lo so La qualità qua non sembra male E me l'ha fatto in 7.20 Quindi boh Vedo un po' se vi piace, se vi interessa Che usciranno Cioè quando uscirà per PC Comunque ci saranno video Assolutamente Ora magari per Play Voglio vedere se riesco Con un po' di sincronizzazione A registrare anche Un video in live commentary Magari ce la faccio Sarebbe Sarebbe figo Perché poi magari È un modo per Per Insomma salvare Insomma per fare Video magari su altri giochi Per la Play Non lo so Vedremo E comunque Ora Per adesso Non è Parlando di Next day Adesso Il video La parte 1 Vi dico che l'ho caricata Da circa L'ho caricata da 2 ore E non è che sta andando benissimo Però Oh Insomma rispetto agli altri Penso adarsi un po' meglio Però Piano piano Come tutti gli altri Poi prendono piede Insomma E vanno come sempre Quindi Era giusto per farvelo sapere Per dire qualcosa Perché Non ho mai fatto un commentary Perché se facessi Come gioco sempre Un live commentary Credo sarebbero uscite Bestemmie su questo gioco Cosa che non voglio fare Perché Sono una persona Piuttosto competitiva Perché ero Giocavo CS in competitivo E Insomma Sono cresciuto male E quindi Mi incazzo sempre E quindi Boh Eheheheh E quindi poi Quando farò i video Su pc Spero di non Incazzarmi come Un Pisello verde Non so Per la prima cosa Probabilmente Allora Io spero che Insomma Di aver sistemato bene L'audio Spero che Comunque Vi piacciono Video del genere Perché comunque Sono video corti Ripeto che Non è una bellissima Giocata È carina Non è bellissima Ma non è nemmeno male Qui In questo momento Io ero What? Cosa? Ero sotto Il cosa era dietro Ma mi ha preso Comunque Ok E quindi Comunque La mira Su play Non è Delle migliori Perché faccio Veramente Schifo Cioè Io ho toccato L'ultima volta Che ho toccato La play È stato Quanto All'incirca Un anno Fa Forse Perché Che giochi nuovi Avrei potuto Comprare Sì L'unico Gioco Che l'ultimo Gioco Che ho fatto È stato Uncharted 4 Quindi Pensate voi Quando è uscito Uncharted 4 E da quanto Io non ci gioco Quindi C'è Un giro di tre giorni Lo finì Quindi Insomma Sì Pensate un po' Voi Quanto è che Non gioco alla play Siamo a 5 minuti E poi È bello Secondo me Registrare Code Anche perché Vengano video Che Senza tagli Corti Carini Poi questo è bello Come code Gli altri Gli altri Mi fanno schifo Perché ci sono i salti Di merda Questo è un È un coso Boots on the ground E quindi Piadi per terra Allora È bello Perché ricorda Quelli vecchi Mi ricorda tantissimo Ovviamente World at War 2 Quindi nulla Quindi niente La partita ormai È giunta al termine Non vi spoiler Che l'abbiamo vinta Meno male Perché se L'avevamo persa Mi cacciavo Per poco Abbiamo vinto Quindi nulla ragazzi Io vi saluto Spero che vi sia piaciuto Questo video E nulla Se vi è piaciuto Ovviamente lasciate un bel like Se non l'avete fatto ancora Iscrivetevi E noi ci vediamo In un prossimo video Magari Un altro su code In live commentary E ciao a tutti